Oh! Eccomi, eccomi tutta qui! Le mie mani, le mie magnifiche mani... Il mio anello! Il pulmine! Dov'è il mio anello? Io non ce l'ho, come puoi pensare che te l'abbia rubato? Come se tu non fossi capace di un simile scherzo! Ridammelo! Bene! Ora che sei di nuovo tutta intera, devi aiutarmi! Perché? Ti abbiamo ricostruito! Non pensi che meritiamo almeno un po' di gratitudine? Gratitudine? Da me? Ma che dici, per chi mi avete preso? Io non sono mai stata grata a nessuno! E non sono il tipo che fa una buona azione, a meno che non sia costretta! Infatti sei costretta! Perché e da chi? Perché ti manca ancora un ultimo pezzettino! Davvero? Quale pezzettino? Questo è al suo posto! E come vedi anche questo, si può sapere di che stai parlando! Io sono tutta intera! No! Ed è normale che non ne senti la mancanza! Non ti abbiamo ridato il cuore! Il mio cuore? Io non ho un cuore! Non c'è battito, hai ragione! Come posso pensare di vivere senza cuore? Se tu non me lo ridai immediatamente, piccolo ricattatore elettrico, ti giuro che non avrai! Eccolo qui! Oh! Ed è così piccolo! Piccolo? È già un miracolo che... E... Avrai solo dopo che ci avrai aiutato! R... Troppo tardi! L'ho angogliato! Sputano, ti ho detto! Dove vai? Vieni qui! Ridami il mio cuore! Avanti, fulmine! Fermatelo! Prendetelo! Mi ha divorato il cuore! Lo rievrai prestissimo, strega nera! Te lo prometto! E sai che io mantengo sempre le mie promesse! Ma prima... Ho bisogno del tuo aiuto! Perché voglio affrontare Tarabas! Aspetta, aspetta! Fatemi capire bene! Tu! Tu, la mia grande nemica, stai chiedendo a me di darti lezioni di magia nera! Ahahahahah! Guarda! Ma come ci sei riuscita? Che così è carino! Ma che dici, carino? Quello è un mostro! Possibile che tu veda solo bellezza e... Quel rospo che accrezzi è brutto e disgustoso! Avanti, dica, è così! Non posso! A me sembra adorabile! Smeralda! Smeralda! Lasciatemi! Smeralda! No! Dove sei? No! Panteghira, aiuto! No! Panteghira! No!